Due leggi approvate all'unanimità che provano a erigere una fragile barricata contro la realizzazione delle piattaforme petrolifere. Rinvio dell'istituzione del Parco della Costa Tiatina alla seduta del 13 ottobre. Questo è stato l'esito del Consiglio regionale urgente di ieri. Urgente, ma per molti tutto sommato inutile. Il primo disegno di legge antitrivella è a firma del sottosegretario Mario Mazzocca, Sinistra Ecologia e Libertà e del consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci e reintroduce il divieto esteso alle 12 miglia dalle coste delle attività di prospezione, ricerche e coltivazione di idrocarburi. Pensata per impedire la realizzazione della piattaforma Ombrina Mare a largo della costa dei Trabocchi, nel Chietino, che potrebbe avere il via libera dal governo il 14 ottobre con l'ultima e decisiva conferenza dei servizi. La seconda legge è a firma di Sara Marcozzi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, una proposta di legge di iniziativa regionale alle Camere che, oltre al divieto delle 12 miglia, in tutti i mari italiani, intende aumentare le scarne royalties che le compagnie petrolifere versano agli enti locali. Appena 70 milioni su 7 miliardi di ricavi, ha sottolineato Marcozzi. Ottime le intenzioni, ma entrambe le norme, cheppure sono state votate all'unanimità, e stato più volte ribadito nella serrata discussione in aula, rischiano di risultare delle vere e proprie leggi fuffa. La competenza autorizzativa in materia di trivelle, infatti, del governo. Le regioni non hanno potere, infatti, hanno indetto un referendum che intende rivedere la legge sblocca Italia. La Corte Costituzionale respingerà dunque con ogni certezza il provvedimento di Pietrucci-Mazzocca, per stessa ammissione dei proponenti, mentre la legge Marcozzi dovrà comunque essere approvata al Parlamento, in tempi che si può prevedere non saranno certo brevi. E con un governo Renzi che è sulle trivelle ed è molto diverse rispetto alla minoranza pentastellata alle Camere. E così lo scontro in aula si è consumato sulle responsabilità storiche della deriva petrolifera in Italia e in Abruzzo in particolare. Le opposizioni hanno accusato il governo Renzi di aver cancellato i limiti posti alle trivelle dal governo Berlusconi, tra cui il limite delle 12 miglia, che ora i consiglieri regionali di maggioranza, accusati di essere dei farisei, ripropongono con una legge che tra qualche giorno sarà cancellata dalla Corte Costituzionale. La maggioranza ha ribadito che intanto è importante dare un segno di forte contrarietà e ha ricordato che, a dichiarare l'Abruzzo, regione strategica per l'estrazione petrolifera, è stato invece proprio il governo Berlusconi.